Quest'anno il Liceo Classico Tasso di Salerno, grazie al finanziamento dei Fondi Sociali Europei Piano Integrato Anno 2013, Azione C1 e C2, ha attivato 12 corsi tenuti anche da docenti universitari. Quest'anno il nostro liceo, il Liceo Torquato Tasso, grazie al finanziamento dei Fondi Sociali Europei, ci ha dato l'opportunità di ampliare le nostre conoscenze linguistiche con l'aiuto di un esperto giornalista. Per i ragazzi del Triennio, i corsi sono sia per il recupero delle competenze in area umanistica, in area matematico-scientifica, sia corsi per superare i test d'accesso alle facoltà scientifiche. Quest'anno il Liceo Tasso ci ha dato l'opportunità, grazie ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, di recuperare e approfondire delle conoscenze che saranno poi utili per la risoluzione dei test alle ammissioni delle facoltà universitarie. Agli alunni del Viennio è offerta invece l'opportunità di migliorare le capacità linguistiche, mediante la produzione di articoli di giornale con l'ausilio di un esperto giornalista. Liceo Classico Torguato Tasso, Piazza San Francesco, Salerno.